Se li meritano tutti gli scroscianti applausi che ieri e la prima li hanno salutati, gli attori della versione dell'opera scozzese di Shakespeare in scena Rossetti fino a domenica. A partire dal protagonista Luca Lazzareschi è da Gaia Prea più che convincente nel ruolo della moglie, una coppia che per conquistare e mantenere il potere, lui il più succupe dei due, non esita ad ordire ferrati omicidi credendo di beffare le profezie delle tre streghe. Uno spettacolo diretto da Luca De Fusco risulta a tratti di dascalico e comunque privo di fantasia. Gli unici guizzi di regia sono le retroproiezioni, possiamo dire che hanno stancato, per il resto tutto procede senza momenti particolarmente memorabili. L'avanzata del bosco di Bilsand verso Dan Sinein ci viene soltanto raccontata e persino la soluzione adottata per le streghe convince poco. La divisione in due atti è squilibrata, il primo si chiude col banchetto, nel secondo la regina è quasi assente, forse è mancato il coraggio di tagliare qualche cosa. Eppure la forza del testo, forse migliore di Amleto essendo decisamente meno complesso, la forza di una storia immortale, per citare uno che se ne è inteso di Shakespeare, e come detto un cast davvero eccezionale senza sbavature, autorizzano a sottolineare il successo dell'operazione, di uno spettacolo del quale per ragioni note a chi bazzica il mondo del teatro mai diremo il titolo. Vi basti sapere che inizia per M e finisce per H.